Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro che si intravede lo stesso abito di Padre Pio da Pietrelcina. Oggi per raccontarvi quanto scrisse Padre Pio al suo padre lettore, Padre Agostino da San Marco Illamis, il 28 febbraio del 1912. Gli racconta quello che stava accadendo, tutto quello che accade a Pietrelcina. Ci ritroviamo dinanzi a un ragazzo che è dal 1909 circa, che si trova a casa, in famiglia, non è in convento per questa strana malattia, motivi di salute e i superiori vogliono capire che cosa sta succedendo anche a Pietrelcina. Lui gli racconta, babbo mio carissimo, ecco questa espressione anche consolatoria che ha Padre Pio, questo giovane frate, nei confronti di questo suo confratello. Dal mio lungo silenzio non argomentate, ve ne prego, che l'amore che ho nutrito verso di voi mi sia diminuito. Il motivo unico è che la vista mi impedisce di tenerci in una corrispondenza più frequente. Però vi ho tenuto sempre presente dinanzi a Gesù. Inviarvi poi un biglietto solamente, dico sinceramente, non ci trovo nessuna soddisfazione, quindi vi racconto quello che accade. Ecco, le visite di quei soliti personaggi seguitano e si rendono sempre più frequenti, ma intanto le battaglie non cessano. Quei cosacci, e quindi parliamo del demonio, dei diavoli, sembrami alle volte che l'abbiano più con le persone che mi amano che con me, però vengo rassicurato che nulla è da temersi. In salute, grazie a Dio, questo benino, ma la vista mi dà un po' di preoccupazione. Per leggere la messa il più delle volte sono costretto a servirmi di un lume che, grazie alla bontà dell'arcipete, nulla mi nega. Avrei intenzione di chiedere il permesso di dire la messa alla Madonna e a quella dei morti. Voi cosa ne dite? Se lo credete bene, fate le pratiche col provinciale. Quante cose poi avrei a dirvi, ma finisco perché la vista non mi regge più. Il cuore intanto parli per me. Queste erano le parole del giovane frate minore Cappuccino che poi ebbe la risposta, il successivo 3 marzo del 1912, questa volta in latino, da padre Agostino, e l'idea del permesso per celebrare la messa votiva alla Madonna e dei morti. Grazie.